Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di SteamWorld Quest Guardavo in basso a sinistra che ci sono le ore di gioco Ho fatto già quasi 18 ore di gioco, complimenti a me stesso Mamma mia quante ce ne sono fatte insomma Vediamo un po' Madonna ma quante cazzo di strade ci sono Eh vabbè andiamo di qua E vediamo cosa succede Eh lo so, un attimo solo Tac, ok Eh, è divertente la cosa Ho paura che sarà un dito in culo Probabilmente sì Eh, facciamo così Facciamo così E facciamo così E queste frittele dopo Niente è andata male Eh ragazzi, ci possiamo fare Ok Vai, perfetto Grande Eh, adesso dobbiamo subirci Oh cazzo, io sono morto Non me ne ho mica accorto Eh Fantastico Sono morto e non me ne ho accorto Cazzarola Allora, proviamo a fare una cosa così Lo so che non serve a un cazzo Però almeno lui dovrebbe subire meno danni Eeeh E così Eh lo so, purtroppo mi sono accorto dopo Ok Grande E vediamo che succede Ovviamente non mi fa attacchi fisici Eh, sei un figlio di Troia No, bisogna dirlo eh Quando uno è figlio di Troia Bisogna che lo si dica Cazzo Fai la difesa fisica Ti fa l'attacco magico Pezzo di merda Allora, ne vivi 50% Glielo diamo 50% glielo diamo a lei E siamo a posto Eh, purtroppo Ci posso fare molto Ok, è andata E adesso è pronto che a me Eeeh Santa madonna Questi maghi sono maledetti In tutti i giochi I maghi sono sempre fortissimi Vai, proviamo così Perfetto Vai, morto Eppure i maghi all'attacco fisico Dovrebbero essere delle merda Invece cazzo Sono fortissimi anche qui quello Guardate lì Guardate, porca miseria Allora Allora Facciamo una cosa fatta bene 1.700 Questo è quello che ne ha di più Poi facciamo questo E facciamo Questo, va Dobbiamo avere un po' di fortuna Vai Ok, vai Ok, morto Perfetto Mi sta bene così Toh Valedetto Adesso tocca a me però Allora Facciamo questo Facciamo questo E facciamoci che ci rigeneriamo Assolutamente Facciamo una cosa prima Questo Che ci rigeneriamo Così almeno siamo a posto Questo E questo Vai Così almeno Quello Eh, almeno devo spendere Meno soldi dopo Ok Andata bene lo stesso Dai Io penso che te Non è il campo Adesso Bene Ce l'abbiamo fatta Ok Perfetto E ci dà ancora tantissima Di esperienza Non so dove Voglio farmi arrivare Carte Ah cazzo Ancora quelli là Lo so Dovrei usarli Vabbè dai È andata bene lo stesso Però Dovrei andare a salvare Effettivamente Cavoli Sarà dura Allora Mettiamoci un attimo A posto Eh Perché se no È un cazzo di casino Ok Eh lo so che Purtroppo ne ho usate tante Ma No Che sfiga Questa è sfiga proprio però Allora Vediamo se riusciamo a giocare A nostro vantaggio Questa mi stabilita Allora facciamo Così Prima di tutto Così Così E così Vai Oh Adesso mi piaci Vai Grande Vai Ammazzano Quasi ragazzi Quasi Porca miseria È sempre più sfiga Però ce la dobbiamo fare Allora Tu sei un figlio di Troia Tra l'altro ma nessuno Allora Facciamo così Così mi muori E facciamo così E speriamo bene Va Proviamo Vediamo che succede Sei morto E questo Spero Tanto che Ecco Come l'ho detto Maledetto Questo Allora Se è gratis Lo voglio usare E facciamo così Ok dai Tanto questo Un cortoturno Non lo matavo Quindi Era inutile Trovarci Ok Allora Sto pensando Sto pensando Che le catrile Sono delle merde Vediamo se c'è qualcosa Di buono Perfetto E vediamo se riusciamo A tirare fuori qualcosa Qualcosa No Non abbiamo tentato Fuori niente Però Io direi di fare questo Di fare questo Di fare questo E speriamo bene Non lo dovrei uccidere Però Ci bandiamo vicini Vedete 200 Aia Meno male che ho regen E adesso Tanti saluti A te Vai Perfetto Ah è morto Non ci scappiamo Bene Dai la strategia È andata bene E qui Dobbiamo rimanare assolutamente Un altro po' Quindi io sono venuto qua Per far che? Un cazzo di niente? Io mi sono Sento un po' stranito Perché dovrebbero essere Di seghetti che non trovo Quindi Vabbè Sono venuto qui per un cazzo Va bene Mi fa piacere Andiamo di qua Oh Finalmente ne abbiamo trovato uno Allora Il toro È proprio un toro questo Va bene Mi sta Mi fa piacere Quindi torniamo su E andiamo all'ultima parte Che è L'ultima che ci manca Che è di qua Dopo saliamo Che è di qua Poi dobbiamo andare su Giù A destra e a sinistra Andiamo giù Eh cazzo però Che è sta papera? Mamma mia Una bella paperella Allora io le farei questo Le farei questo E porca troia Non mi ha dato un cazzo Sto coso Interessante Ok Quindi questa non mi dà Nel appunti Allora è bello sapersi Buono Vai Grande Cazzo 10.000 Ma quanto cazzo C'ha via sta papera? Porca miseria Ragazzi Questa Sembra quasi un boss Eh Porca miseria Veramente tremendo Spero di riuscire a fare Bastante punti Per bagattarla Eh Ok proviamo così Eh non gli ho fatto Neanche la metà del danno Ragazzi eh Cioè A 7.000 ancora Si sta preparando A fare qualcosa Ne sono abbastanza sicuro Allora Io mi Tutelerei un attimo E Speriamo bene Vediamo che succede Cura Bene Regen E vai Non siamo ancora a metà Ragazzi il danno Puttana vacca Ma che cazzo Mi ha combinato questo Sono un po' Stordito Dalla cosa Mi ha tolto tantissimo Stapa per la piangente Ok Mamma mia ragazzi Eh Lo so che È un po' Una menata La facciamo così E speriamo bene Ragazzi Perché qui La vedo brutta Vai 136 140 E 109 Siamo adesso a metà Siamo adesso a metà E questo mi va bene così Così E così Vai Speriamo bene Bene Solo che Lui il problema Che Ok Ok Si prepara a fare Quell'attacco Non sono abbastanza sicuro Quindi Vediamo questo Perché non si sa mai E vediamo questo Allora facciamo così Ok E mi sta bene così E mi sta bene così Oddio Ok Siamo full tutti quanti Quindi Dovremmo farcela Guardate quanto toglie Ma fricentuale Ok Lo vuoi mettere sul pesante Facciamo così Così E Mi tocca fare Più fatto questo Proviamo a vedere Che succede Si mi serve per dopo Mi va bene Grande Così Perfetto Usiamo tutte le abilità Che abbiamo Quelle più costose Perché sarà Veramente dura Benissimo Dai E' ridotto abbastanza male Bisogna vedere quanto Poi mi farà male lui Quello è il problema di base Che proprio Non è da poco Oh cazzo Aspettate Non sarebbe male Usare di quello Però Vediamo quanto li faccio Più o meno Mettiamo il danno minimo 150 Più 230 Quindi 300 Quasi 400 Più quello 500 E non li faccio un cazzo Quindi io andrei di questo E speriamo bene E cociamo le dita Ah beh C'è il baffo L'ho dimenticato 100 Madonna ragazzi Abbiamo vinto Oh Io ho calcolato Il danno minimo Quindi Grande Grande 22 di magia 24 di magia 120 Oh Vaso di Pandora Che cazzo è il vaso di Pandora Che paggiamento Conferisce una possibilità Del 12% Di infliggere Uno stato casuale Casuale Quando vengono causati Danni Ah Eh Ma io ho preso tanta roba Che ho preso agli agliati Una possibilità di veleno Eh non sarebbe male ragazzi Eh non sarebbe male per un cazzo Questa vabbè l'abbiamo vista Che non ci sarebbe niente per adesso Dove cavolo è Non la vedo Ok l'ho presa Eh il vaso di Pandora Non è male Allora vediamo se qui c'è qualche trucco Perché porca miseria Non c'è niente Questo mi sembrava quasi un boss Da quanto cazzo era forte Quanto c'ho di vita Perché qui Non vorrei Vorrei Eh mi è rimasta una fiala sola Mamma mia che bella cosa Ok Oh che bello Dammi qualcosa Ti prego Wow Costa 5 Ma caso Dai 320% 960 di magia Di danni da tempesta A un nemico Ma infligge parasi A copernica per turni Cazzo Da 1.400 A 4.000 Eh io la devo Equipaggiare assolutamente Lo so che È rischioso Però ragazzi Cioè io non posso Non posso Assolutamente Non pensarci Perché questa carta È fantastica Eh dov'è Costa 5 lo so Però buffata Con quelli due buff lì Eh Quasi È molto meglio di questa Che costa due Per carità Eh E io di questa Ne ho un'altra Io sto pensando O mettere un'altra Di questa E togliere questa Che comunque fa 4.800 1.600 sicuri Senza problemi Senza buff Fa 1.700 In realtà è qualcosa Fa quasi 1.800 Senza buff E costa solo 2 Quindi io Farei 3.600 sicuro Senza il bonus E senza buff Con due di queste E mi costa Meno di questa E lo so che Uno su solo una Però alla fine Ragazzi è meglio Io ne metterei Un'altra di questa E c'è che Dopo potenziale Vediamo che succede Perché questo Capisco che fa 4.000 Se riesco a fare 4.000 Più buff E tutto quanto Arrivo a 6.000 7.000 Per carità Però io dopo Ho tre turni Che rimango stordito Con questo no Quindi proviamo così Dai Vediamo che succede Comunque è molto interessante Quella carta potenziata Probabilmente Come l'ultima risorsa Mi interessa parecchio Oh Io non ricordo più L'altra Quale fosse Il toro E questa è una Io Una 0Y Ok Mi va bene Allora il toro Una 0Y Va benissimo Qui naturalmente Ovviamente non c'è Ok Andiamo pure E vediamo di farcela Toro Una 0Y Speriamo di ricordarcela Vai qua Eh scusate Allora Di qua Di qua Di qua Qua compriamo un po' di roba Ragazzi Perché assolutamente Pozioni Ne prendiamo due di queste E questi qua Ne prendiamo una decina Ok Allora Vi hanno detto Scusate Di qua Allora Ecco questa qui Va così E il toro Ha forma di toro Perfetto Ce l'aveva fatta Alleluia Alleluia Ce l'abbiamo faccionata Che emozione Un save Me lo dai Sarebbe utile Tu mi dessi un save Oh guardate C'è uno schieno Che ci dà una penna E ci dà la carta Di quelli là Per carità Però ho deciso Di non usarli Per il momento Sarebbero Sicuramente Sono buoni Al 100% Però Insomma Vediamo Ancora segreti Non li ho trovati Li ho anche cercati poco Per carità Però insomma Ma sì Va bene Perché mi sa tanto di boss Troppe stanze vuote Dopo tutte quelle piene Che abbiamo trovato Non mi sembra caso Non c'è niente È proprio un cazzo Ok Qualcosa c'è Una mano Gasp Credo sia Scusate Credo di sapere Di chi è Quella mano Già Appartiene a Awok Jim Il venditore ambulante Dopo tutte quelle elezioni Di borseggio La riconoscerai Tamil Tutto questo è sbagliato E se va avanti così Non rimarranno Altri abitanti Oltre ai druidi Wow Cazzarola Sono 500 Più 250 750 Non male La confusione Mi stanno In tutti i modi Cercando di dirmi qualcosa Io ho paura di andare Ragazzi Perché se non trovo Un salvataggio Ma porca toy Scomentate che ho preso La stata più sbagliata Che ci fosse Potesse Essere di là Nel salvataggio Sicuro al 100% Porca miseria È un bel casino Successo Ma Ma trullati tutti Cavolo È stato sbagliato Prendo sempre Quella sbagliata Non c'è Che cazzo ho detto Tutto per Dello stupido Suco di Chiaro di luna Dopo un'esperienza Tanto terrificante I nostri eroi Non crollarono E rimasero Determinati Nell'intento Di consegnare L'arciduido Alla giustizia Oh Rimuove tutti gli effetti Negativi Degli alleati Colpisce un nemico Per ogni effetto Rimosso Trattando l'80% di forza E danni fisici Non male Quindi minimo 3 Quando c'è un multibuff Eh Ho Paura Oh bene C'è un su Ok Allora andiamo di qua E vediamo se c'è un save Perché Porca miseria Non ci credo che non ci sia Neanche un save E qui non c'è un cazzo Eh Vabbè Ragazzi Non voglio rischiare Quindi faccio un taglio Vado a salvare Probabilmente sarà lì Quasi sicuramente Però è meglio non rischiare E ci vediamo fra poco Ok ragazzi Andate a salvare Ho fatto un combattimento Purtroppo non ho potuto evitarlo E non mi dà più esperienza Quindi vuol dire che il gioco Vuole che io vada a questo livello qui E mi va bene Ho perso un po' di vita Ma poco e niente Andiamo pure avanti E vediamo che succede In marcia Non mi dico che era finito Lo scenario Ma porca vacca Eh La figura di merda Dovevo farla Vabbè Dopo aver superato Le avversità Della Mac Cattocombe La nostra Instancabile Squadra Entra nel santuario Del druido Bene Comunque abbiamo preso Il 100% Sono contento Quindi vuol dire Che ho fatto bene Questo lo farò più avanti Perché non sono in grado Di farcela adesso La radice della maledizione La radice della maledizione Vediamo un po' Capitolo 15 La radice della maledizione Eh si eh Vediamo un po' Quindi siamo a due passi Da prendere questo Come si chiama? Reliquia Credo sia una reliquia Salve Tu mi dai qualcosa Oh Cioè Praticamente ho fatto una figura Proprio bestiale Prima Vabbè Acquista Vediamo un po' Armi No Sono sempre le stesse Non cambia molto Va bene Non cambia niente Non è che non cambia molto Accessori Ogni volta che mandi fuori Armi Questa l'hai già visto Guardi 6% Ti indicherà sempre La direzione giusta In ogni caso In caso di perda Eh Non sarebbe male Evita di perdere I tuoi preziosi Fluidi Corporei Ah ok Scusate Non c'era arrivato Mamma mia Quanta roba c'è Annulla bersac Annulla salute Eh ma Ci sono tante cose Che potrebbero essere Interessantissime Ma sono situazioni Situazionali Nel senso In base a chi ci troviamo davanti E sarebbe Saggio equipaggiare Diverse cose Però Eh Se non li affronti Non lo sai Va bene Eh Potenza carta Volevo vedere Insieme a voi Allora C'ho qualcosa di nuovo Con lui Questa forse Sì Eh Allora Questa qui Potenziarla Non sarebbe male Visto che li abbiamo E così Fa poco in più Però Mi interessa parecchio E qui La potenziamo Avevo tanto materiale Sono contento di averli usati Posso potenziare ancora Eh 897 Ne ho tanti Potrei farla Effettivamente Qui anche questo pugno Che è un pugno Pugno basico Ah no Questo non è un pugno basico Questo è il pugno Cazzo 1200 Tanto eh Però costa 4 Quindi niente La regen Mi interessa parecchio Eh Cosa fa in più A tutti gli agliati Per 5 turni Quindi questa è per 3 Ah Ragazzi È utile Molto utile Allora Vediamo un po' Se c'è qualcos'altro Che posso utilizzare Ecco questo è il pugno basico 3 3 3 19 E di questi Ne ho tanti Però non così tanti Io andrei a Oltre Andiamo da lei Da lui Chiunque Questo sia Vediamo Questa qui Ma arriva a 350 Infatti immaginavo Che poco differenza Ci fosse Questa 370 Ma non mi interessa Questa ce l'abbiamo Chi cazzo si ricorda Mi sembra di sì E fa 600 Ma le cose Che più in più Mi interessano Non si possono Ancora potenziare Questa non la uso più Io cosa uso Di lei effettivamente Non è che usi Tante cose C'è quella base Che uso spesso Più che altro Era Copernica Che c'era questa Che mi interessava Parecchio Che era il fulmine Multi Che era questo Che purtroppo Non possiamo più potenziare Questa Questa si può potenziare Ma ci vuole un qualcosa Sì È un po' un casino Ragazzi Però questo qui Io lo vorrei potenziare 30 Va bene Mi fa poco in più però Costa tanto in più Questa qui invece Mi fa Mi fa di più Non lo so Non lo so Cazzo Questa fa tanto E mi fa 750 Io andrei a potenziare Questa Dai non ci pensiamo più Andiamo a tanti saluti Ah devo comprare Un po' di materiali Perché se no Materiali Questi qui mi servono Eh lo so Che costa tanto Ma Facciamo così Ok Basta E se no ragazzi Quelli sono quelle Che costano più di tutte Gli è fatica a prendere Ok Andiamo avanti Eccolo lì Da lasciarmi fare Un altro po' di quel delizioso succo Di chiaro di luna Questo Migno è quasi Certamente conseguenza Dei poteri Dell'ingranaggio Dei caduti Ok Di nuovo voi Come avete fatto Il gioco è finito Siamo qui per estirpare La tua macabra Bottega di chimica Già Sappiamo che Hai tu L'ingranaggio Dei caduti Ve l'ha detto Sul serio Eh shh Fate piano State distruggendo Bando l'albero Gli ho dato Lo spuntino Della buonanotte Certo Si vede che proprio Sta dormendo Oh Bob Sapevo che eri poco affidabile Ma andiamo Non puoi andare In giro A sfamare Alberi malvagi Dandogli impasto Ai tuoi clienti E allora E il cerchio Della vita Ah si Le leone Ora andatevene O manderete In rovina Il lavoro Di tutta una vita Esagerato Chiudi quella fogna Hai finito Di raggirare La gente Abbatterò Sia te Che quell'albero Rigonfio Non usare A toccare l'albero Ho bisogno Del suo Sonno di bellezza Per produrre Il succo E non Gradisce Che si discuta Di abbattimenti Di alcun tipo Shhh Mamma mia Mi hai borlato In faccia Come al solito Ecco L'hai fatta Arrabbiare L'hai fatta Inalberare Ah va bene Shrace Ecco Non so cos'è Tranquillo Piccolo mio Ho un'intera Partita di Parti Fresche Tutta per te Giù Nelle catacombe Prima devo solo Tagliuzzare un po' Oh no Ah Oh come sono felice Giustizia poetica Dispensata Nella sua forma Più Lugubre Legname Ok Proviamo subito E speriamo bene Ragazzi Ho potenziato Quello che potevo Abbiamo tanto HP Fra Lui Non mi viene Come si chiama Allora Vediamo un pochino Facciamo così Facciamo così Facciamo così E speriamo bene Che vada tutto bene E ne è solo uno Quindi Può darsi Cazzo quanto Cazzo non lo Sarai immune sicuro Aia Botta Quanti attacchi hai Scusa Tu albero Allora Io farei Così Poi farei Così E poi Facciamo così Dai Fammi vedere Cosa sei capace Vai Grande così Cinque volte Grande Grande ragazzi Grande Sicuramente morirò Però ne basta la pena Questo L'albero similare È quello che avevamo già sconfitto Vi ricordate Tempo addietro Allora Una rigena Servirebbe Facciamo così Facciamo così E facciamo così Visto che adesso La regen L'abbiamo aumentata Mi interessa parecchio La cosa Perfetto L'ho subito Ottimo Siamo a un terzo Di danno che abbiamo fatto Ok Perfetto Ma andonna Si è rigenerato così tanto Quindi devo per farci Ammazzare quei cosi No buono Guana No buono Allora Io farei così Così e così E così Vai Per quattro Vai Grande così Grande così Grande così Perfetto Dai È già qualcosa Devo vedere esattamente Quanto danno Diciamo a fargli Arito fetido 460 Ci ha fatto Allora Io direi Direi che Meno male che ho questo Se no Ero nella merda Poi facciamo Così E facciamo così Vai Vediamo che succede Perfetto Vai Ammazzato anche qualche Ok Mi va bene lo stesso Vai Siamo a Non dico due terzi Perché non ci siamo ancora Però Siamo vicini Abbiamo ancora il regen E può darsi che il regen Di venga ancora fuori Allora Sto pensando eh ragazzi Allora Io farei solo questo Per un motivo Per un solo motivo Tra avere la catena Così almeno siamo a posto Andiamo qua Vai Grande Grande E grande Mamma mia 10.000 Ancora è tanto Perfetto Va 800 si è degenerato eh Non mica poco Allora Andiamo con questo Poi Andiamo con Sto pensando eh Sto pensando come potrei fare Ho usato tutto però Ne vale la pena Grande Vai Almeno quello che si è Rigenerato Gliel'ho tolto Quindi stiamo andando avanti Eh sarà una dura L'olotta eh Il regenero mi è ancora ritornato E adesso è finito Allora Vediamo un pochino Come possiamo fare Speriamo bene Vai Così è sicuramente meglio Grande Vai Siamo almeno del 50% Grande così Ho paralizzato qualcuno Così mi attacca solo uno Adesso lui si succhia tutto Ah no Ha rissumato Di Non riesco più a parlare Scusatevi Oh cosa Vedere i miei occhi Maledizione Allora Questo Sei un figlio Di una puttana Lo sai Mi è andato a mobilizzare lui Eh Ah Però Mi ha tirato No Mi ha tirato Uno delle sue Ragazzi Cosa sto per fare Mo cosa Che combinazione letale Che è venuta fuori Guardate un po' Catena Vai Grandissimo Grandissimo Quanto mi sei piaciuto Peccato che è mancato Un sacco di volte Peccato Perché lui è andato a colpire uno Che già c'era Non ho calcolato Questa Eventualità Però mi è piaciuto Lo stesso Tanto Vai Andiamo così Perfetto Ovviamente Un attacco lo fa Dove cazzo vi pare Eh Vabbè Purtroppo Dobbiamo aspettare Speriamo che questo Debuff Finisca Ok Finita Uh Mamma mia Copernica Mi serve per dopo Però mi serve più questo Che vada lui Poi Questo qui Che vada da lui E Questo qui Che vada così Facciamo così E vediamo Speriamo bene Ok Rigenerato totale Da che Mi manca solo 5500 ragazzi Pochissimo So che questi episodi Durano un po' di più Ma siamo Nel punto della storia Un pochino più Avanzato Dopo è normale Ok Allora Facciamo così Così e così Perfetto Benissimo Dai che siamo A 5400 Anzi 4008 Grande Ecco Figuriamoci Abbiamo regen Però ragazzi Abbiamo regen E io lo voglio usare Vai Data Data Regen Regen Adesso quanto male ci farà Perché fa 2-3 attacchi Porca di quella troia 4.000 Mi tocca usare per forza Un rivikit Lo so che è una palla Ragazzi Abbiate pazienza Però mi tocca Suppare un Turno intero Così Eh però Almeno Siamo Siamo Vivi Ok Andata Andata Mi va bene lo stesso Adesso 50.000 Attacchi Ovviamente E di tutti quanti io Ok Eh Si è rigenerato parecchio Si è rigenerato parecchio Proviamo così Vai Perfetto Vediamo come salta fuori Ok 5.000 4.500 Siamo tornati come prima Prima che si rigenerasse Però 3.700 Vai Aia Ovviamente Quanti attacchi fai Brutto stronzo Ok Vediamo un pochino Così Così E così Vai Vediamo un po' Speriamo bene Ragazzi Almeno 2.000 Vorrei portarlo 1.600 1.600 Va bene Mi va bene lo stesso Perché ci siamo vicini Purtroppo lui fa molti attacchi Quella è la cosa più Brutta Diciamo Ecco Vedete perché mi incazzo io Allora Ovviamente Non ho niente Dell'altro Ok Ce l'ho Però non mi va bene Maledetto Ah no Ce l'ho qua Non me ne ho proprio accorto Vai Perfetto Andiamo così 1.200 Dai ragazzi 1.200 1.900 Ce l'abbiamo quasi fatta Accidenti Accidenti Ecco Accidenti Ce la devo fare assolutamente Speriamo Incorciamo le dita ragazzi Perché manca pochissimo Ah 200 Dai che ce la facciamo Ce la facciamo Dai 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 Faccela Oh Abbiamo vinto ragazzi Mamma mia che fatica Che fatica E ci ha dato Dai abbastanza Ho fatto un albero Non ho letto la cima Scusatemi Non ce l'ho fatta in tempo Bene Sono contento Ce l'abbiamo fatta Scusate se è durato un po' Ma avete visto anche voi Uh La tua legna Non è buona Nemmeno da ardere Ma con chi parla Che è morto Dunque L'ingranaggio dei caduti Ci attende in fondo A questa buca C'è solo modo Per scoprirlo Ah proprio così E si sono proprio buttati Eh Ah vedi E buio pesto Sembra Di fissare L'onice nera Gente Sento qualcosa Di particolarmente Vischioso E disgustoso Mmm Non so cosa voglio dire Ok Quello lì Oh Interessante Quindi è questo Il leggendario Ingranaggio dei caduti E pensate che questo artefatto È la causa di tutto Tanto dolore Di così tanto dolore Me lo immaginavo un po' più A forma di cuore Eh certo Lo è Ha la forma di un cuore Ma Quello è di un mostro Creato dalla dea Dell'inganno Usando i corpi Degli illustri Alchimisti E valorosi guerrieri Fusi insieme Per il Per governare Il ritmo Del battito Del behemont Per l'eternità Questa versione Non è presente Nel manuale Dell'eroe Tutto il dolore Tutta la sofferenza Sono il motivo Per cui È arrivato In questo mondo Non c'è Da meravigliare Che le sue Energie Siano così Profondamente Corrotte E distruttive Ehi Cosa sta succedendo Sta iniziando A brillare Ragguardevole I nostri eroi Afferrano L'antico artefatto Cioè lui Lei cioè E premio In mano Fece lo ritorno Alla luce Alla superficie Della superficie Proprio così Tranquilli Senza che niente fosse Siete circondati Restate fermi Dove siete? Accidenti L'esercito Nel nulla Ma guarda caso Dopo che abbiamo fatto Stata fatica Senza esitare Alcuna I nostri eroi Valutarono Valutarono La situazione E si prepararono Per Credo che faremo meglio Restare calmi Molto calmi Ecco che arriva Il signore oscuro Fate spazio Salutate il signore oscuro Hai lui? Bene 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 Che cosa abbiamo qui? Cavoli Un alquanto curioso Drappello di avventure Eri guidati Certamente Da convinzioni Errate Da Te Ah quindi si conoscono Ciao mio vecchio amico Cosa? Si direbbe che tu abbia fatto Tutto il lavoro per me Nemmeno in mille anni Mi sarei mai aspettato Di vedere te Davanti a me Con così tanta audacia Con l'ingranaggio Dei caduti Già attivo Eppure sono qui Se qui Siamo entrambi qui Se qui Siamo entrambi qui In un sogno di silenzi Una notte rasserenata L'incessante stirpe degli ingranaggi Si interrompe Per concedere un attimo di pace Tutti allibiti Insomma Quel passo è Sei Gil Gil Ma Match Il vero eroe Dell'antichità Ah Che retroscina Interessante Cosa? Pfff A meno c'è qualcuno Che si ricorda Di chi Ha salvato il mondo intero Dall'annientamento Ma non è ancora abbastanza Oric Questo gruppo dimostra Che Questo gruppo Dimostra Che avevo ragione Il vero eroismo Non è mai Del tutto scomparso Hanno risvegliato L'ingranaggio Dei caduti Dal suo torpore Ha reagito Alle loro azioni E alla loro virtù Pensavo di essere stato Sufficientemente chiaro Quando ti ho detto Ti ho rinchiuso In quella gabbia Il tuo sciocco modo Di ragionare Mi logora Il tuo gruppetto Non ha Che Una semplice Eccezione Devo riconoscere Che mi sono preoccupato Quando avevo Avete sconfitto La mia Alchimista Piumata Mi aveva Promesso Che Se avessi raccolto Abbastanza Di questi eroi Della gilda Senza Né arte Né parte Sarebbe stata In grado Di risvegliare L'ingranaggio Dei caduti Se lei è stata In grado Di farlo Senza servirsi Di veri eroi La tua Commitiva Non prova A con che Però almeno Mi hai risparmiato La seccatura Di dover Trovare Un nuovo Mastro Alchimista Le azioni Compiute Da questo Gruppo Provano Tutto Anche le più Tenue Scintille Di eroismo Possono portare A grandi cambiamenti Per cambiare il mondo Corre un atto Di autentico E straordinario Eroismo Non una Tenue Scintilla Ma un faro In grado Di difendere L'oscurità Lo stato Corrotto Della società È irrefutabile Basti Guardare Quanto è stato Facile Formare Questo esercito Malvagio Sta parlando Di noi Evviva Il signore scuro Beh Bah Questi burattini Pusillanimi Che si Sottomettono A me Non fanno Che Sottolineare Quanto sia Scura La coltre Che dobbiamo Attraversare Non posso Fare altro Che Ristabilire La rettitudine Con come Ho già fatto In passato Quella volta Oric Eri al mio fianco Ora Consegnami L'ingranaggio Dei caduti E vi Modelliamo Il mondo Per il meglio Per il meglio Insieme Capisco Che tu Ti senta Affranto Perché la gente Si è dimenticata Delle tue geste Eroiche Ma non si tratta Di te Non ho tempo Per questo Queste futilità Io sono il faro E dal momento Che non mi sembri Disposto A cedermi L'ingranaggio Dei caduti Mio vecchio amico Mi vedrò Costretto A usare Le maniere forti Aia Ci ha immobilizzati Cosa Succede Non riesco A muovermi Perfetto Ci ha ciullato Tutto Adesso Che l'ingranaggio Dei caduti È in mano Mia È ora Di È ora Che mi ritiri Per i Preparativi Finali L'inflessibile Mano del destino Mi chiama Ci ha ciucciato Tutto Senta anche combattere Il signor oscuro Si muove Fate spazio Salutate il signor oscuro Ma questi sono proprio fuori Insomma L'abbiamo preso in culo Perfetto Fantastico Ma tu Tu sei l'eroe Non andare via Ti prego Wow Caso 444 Di forze di danni da fuoco Un nemico 35% di forze di danni Da fuoco E me li infigge Angoscia Il nemico Non è male Solo che costa troppo Cavoli È un'altra scena Piuttosto Non me l'aspettavo Ma Oric Se hai sempre saputo Che Gigamesser Signor oscuro Perché non ce l'hai detto Devo assicurarmi Che foste All'altezza del compito Altrimenti Saresti andati In contro Le vostre fine Anzitempo Ma avete dimostrato Senza ombra di dubbio Di essere Degli eroi E mi dispiace Di avervi Fordiato Come abbiamo fatto A finire in questo casino Ci devi Parecchie spiegazioni Che pro Non ha più importanza La prima volta Che incontrai Gigamash Fu all'interno Della temperanza Della Lux Ultima Un ordine Di cavalieri Di distanza No Di cavalieri Di distanza Sulle montagne Più a nord Tutti lo presero in favore E lo apprezzarono Sin dal primo giorno Il suo animo Era puro Immacolato Come la neve La sua forza Impareggiabile Ma Era anche Propenso A prendere Sotto gamba Le discipline Che richiedevano Maggiore riflessione Quante sere Spese In vano A cercare di farlo Appassionare Alla filosofia E alle arti Visibie Quando Il primo Cavaliere Scelse Gigamash Per affrontare Il Bermont Io Venni scelto Per assistere In veste Di scudiero Aiutante Se preferite Voi tutti Conoscete la storia Di come ha avuto La meglio Sul mostro Per cui Non mi dilungherò Nei dettagli Basti dire Che Gigamash Strapò L'ingranaggio Dei caduti Direttamente Dal corpo Del nemico Il primo Cavaliere Della Lux Ultima Si accertò Di trovare Un posto Adatto Dove nasconde L'ingranaggio Dei caduti E lo seppellì Da solo Segretamente In un luogo Sperduto Dove non avrebbe Arrecato Alcun danno Ad ogni modo Gigamash Apparve subito Molto cambiato L'ultima volta Che lo incontrai Pensava Di essere stato Dimenticato E che Era E che l'era Degli eroi Fosse giunta A termine Voleva servirsi Dell'ingranaggio Dei caduti Voleva risvegliare Il Bammond In modo da Poterlo nuovamente Sconfiggere Ah Adesso è chiaro Ed essere Lodato Come eroe Ancora una volta O per Citare parole sue Mostrare alla gente Cosa sia Il vero eroismo Hermilli Sapevi Che ai tempi Che furono Gigamash Creò la prima gilda Fondata al fine Di Incoraggiare Il vero eroismo Stupendo Cercai di fargli Notare L'insania Del suo piano Ma riuscì A leggere I suoi grandi occhi Iniettati D'orgoglio Che le mie parole Il messaggio Non venne mai recepito Il primo cavaliere Non rileva mai La posizione Dell'ingangio Dei caduti Ma nel profondo Sapeva Che nasconderlo Non era sufficiente Per impedire A Gigamash Di raggiungere Il suo obiettivo Motivo per cui Creai un altro modo Per fermarlo Dovevo convincerlo Che il suo vero eroismo Esisteva ancora Ma lui Mi mise In una gabbia E le mie speranze Erano quasi svanite Quando ho incontrato voi Mi avete mostrato Il vero eroismo Ma il mio vecchio amico Ormai è perduto Accecato dalla sete di gloria Sono stato Uno sciocco Chiedi di essere tu Lo sciocco Da quanto ci siamo Imbarcati In questa avventura Sono stato Sommerso Da eroi senza arte Alchimisti Eroganti Druidi Alimentati Mangime Alimentati A Mangime A Eki Più ne ha Più ne metta A parte le piccole critiche Mi sono lasciato Trascinare Per mezzo regno Senza fare troppe questioni Già Ma se c'è una cosa Che proprio Non posso accettare Di essermi Assorbito Tutto quanto Solo per mollare Non appena le cose S fossero fatte Più difficili Diamine Non permetteremo Non permetteremo A quel bullo Di devastare il mondo Non ho trascinato Il mio fratello Né me stessa In ogni Putiferio Immaginabile Solo per Succombere A un pallone Gonfiato Chauvinista Con un complesso Di superiorità Io ho scoperto Quanto sia facile Allontanarsi Dal sentiero Della scienza Quando l'alchimia Viene usata Per fare del male E non Del bene Senza parlare Delle conseguenze Che pagano Le persone Che amiamo Non posso lasciare Che accada Non posso lasciare Che sia questo Ciò che Lasseremo Alle legislazioni Future Prova vergogna Per aver permesso Alla disperazione Di prendere il sopravento Il tempo Che abbiamo Trascorso insieme Sottolinea Più E più Volte Che non importa Da dove venga Un eroe Né di che taglia sia Basta Non dobbiamo mai Perderci d'animo Non dobbiamo mai Rinunciare A salvare il mondo Oddio Ha cambiato la maschera La fiducia Ah se l'è tolta Si invigorisce Causa Il 110% Di fatto Wow E costa 3 Però è bella 315 per 3 Sono Migliaio 900 1000 1053 Più o meno Più Tutti i bonus Che non è male Non è sicuramente Il grado di forte E la magia di Oric È interessante C'è ancora tempo C'è ancora tempo Qual è il tuo parere Al Millie Andiamo Millie Se non è questa La situazione Perfetta Per Sperimentare La nuova conoscenza Del mondo Pragmatico Per il bene di più Quale altra È un po' Depressa La sfortuna A tagliargli ancora I nostri eroi Più Fermamente Che mai Ma Era ancora Presto Per Barlume Di speranza Era ancora presente Scusate Quindi cosa stiamo aspettando Andiamo a prendere A calci Nel sedere Signor Oscuro Mamma mia Un diacolo infinito Ragazzi Però È servito A capire Un po' più La storia Bene ragazzi Direi che ci possiamo fermare qui Se no faccio un video Di 10.000 ore E come al solito Vi invito a lasciare un like Un commento Se mi piace la serie E fammi sapere cosa ne pensate E per adesso Vi saluto Ciao ciao Ciao